Questa quattro anni di ottima categoria sul miglio in sette, pochi ma buoni, dove Italia 1 è in grande spolvero, la più gettonata al totalizzatore. Sette quattro anni, miglio, quarta, ancora qualche giorno, poi sono tutti anziani, rinuncia Italia 1 e anche Aisdete, avvia la macchina. Ottimo il lancio. Dal centro, Janez da provetto partitore con allargo, ipertornado, poi it's perfect, cavalli impiegata, lancio, in 13 e 2, Janez corre al comando, e così ipertornado cerca un po' di spazio, ma la cosa non avviene, però può parcheggiare in terza posizione. E ora lunga fila indiana, Janez completa i quattrocento in ventinove, e subito Italia 1 prende la via del largo, pedinata da Aisdete. E sullo stop del senior d'Alessandro Giorgio, Italia 1 e Aisdete risalgono la comitiva, 600 in 46 e mezza, addirittura una frazione in 17 e mezza, e cavalli che affrontano la penultima curva, con i tachi Fez, a far la terza pariglia. Al comando, il targato PL. Si va, mezzo miglio, nell'ordine dell'1 e 3, si viaggia da 1 e 18 e 8, e cavalli che affrontano il penultimo rettiri. Non ci sono variazioni sostanziali, ma ora inizia a pedalare sotto la spinta di Italia 1, Janez. 14 e 3 di fronte, 17 e 3 il chilometro. Violentissima frazione, e cavalli che affrontano la curva finale con Italia 1, che sopravanza l'avversario. 13 e 2 di fronte, 28 e 7, 400. Cavalli ha completamente la curva finale, poi solo It's Perfect, non perde di vista i duellanti, ma ancora molto dietro. Ritorna aggressiva Italia 1, si difende Janez, ultima a fondo di Italia 1, va su Janez. Lotta, incerta, i cavalli sono in zona traguardo, Janez, 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 su Italia 1, It's Perfect. 2-1, 1-15 e mezzo, Janez, al comando, in un cost-to-cost notevole. Oggi Italia 1 ha trovato un avversario molto, molto, ma molto ostico. E ha trovato anche un avversario di guidatore, questa Italia 1, questo Giorgio D'Alessandro Senior. In un periodo magico i colori sono sempre quelli di bagnetto, di Dio, ma in salchi.